Gente che aiuta la gente, ma non cerca niente, non parla e si sta. Gente magnifica, gente di questa città. Aveva ognuno che guardano al cielo e non poteva parlare. Aveva ognuno che guardano al cielo e non poteva parlare. Aveva ognuno che guardano al cielo e non poteva parlare. Ci sta tutta la mattina in cerca di questa città. Gente magnifica, gente vicine e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città. Aveva ognuno che guardano al cielo e non poteva parlare. Aveva ognuno che guardano al cielo e non poteva parlare. Aveva il nostro padre di 답ore. Aveva il nostro padre di relax. Aveva il nostro padre di 답ore. Aveva il nostro padre di mie ore. Aveva il nostro padre di attivano al cielo e non poteva parlare. иваемüne nearει while cave. Aveva il nostro padre di astrologia e non poteva parlare. In questo люди andate daンタ sending mailo every time sadly then writers', Grazie a tutti.